Привет! Продолжаем говорить о чехове и его чайке. Continuiamo a parlare di чехов e il suo gabbiano. Impara il russo con i classici. Hai sentito nel video precedente un estratto dallo spettacolo audio Чайка, il gabbiano dello scrittore russo dell'Ottocento, Антон Чехов. Come capisci la parola ХОЧЕТ? La trovi nella prima frase dell'estratto e significa ВОЛЕ. Vediamo il verbo ВОЛЕРЕ, russo, che è un'eccezione e che all'infinito è ХАТИЕТ. L'hai già studiato in passato? Se no lo vedremo adesso. Se sì, facciamo un ripasso e un po' di pratica. Ecco il suo paradigma al presente. Guardalo bene, se sei molto attento, attenta, vedi la differenza tra le forme al singolare e le forme al plurale. Le forme al singolare, io voglio, tu vuoi, egli o ella vuole, la radice del verbo finisce con la lettera ЧЕ. Я ХАЧЮ, ты ХОЧЕШ, он ХОЧЕТ. Mentre al plurale troviamo la stessa cosa dell'infinito, la lettera ТЕ al posto della ЧЕ. Мы ХАТИМ, вы ХАТИТЕ, они ХАТИАТ. Ora, легgele tu queste forme e io te le dico per controllare la pronuncia. Vai. Я ХАЧЮ, ты ХОЧЕШ, он, она, ХОЧЕТ, МЫ ХАТИМ, вы ХАТИТЕ, они ХАТИАТ. Un altro verbo che troviamo nella prima frase del nostro spettacolo è ПУО. Come lo dici? МОЧЕТ. Facciamo la stessa cosa con il verbo POTERE. МОЧ. Anche qui trovi la terza lettera che ogni tanto cambia. Ma essendo un'altra eccezione, questo verbo ha un sistema tutto suo. Le vedi le due forme che sono diverse dalle altre proprio a causa di questa terza lettera? La prima è l'ultima forma del paradigma del verbo POTERE. Я могу, они могут. Tutte le altre forme avranno la normalissima lettera legge. Leggiamole. Particum io posso, я могу, ты можешь, он может, мы можем, вы можете, они могут. Come vedi, anche l'accento tonico si sposta ogni tanto, come para lui. queste forme sono da ricordare. Un personaggio di questo dramma dice all'attrice scherzando GIOVE TI STAI ARRABBIANDO. Come lo dici? JUPITER. TY SERDISHSE. Il verbo ARRABBIARSI o PRENDERSELA all'infinito è SERDIZZA. SERDIZZA. Come vedi dalla fine del verbo è riflessivo, proprio come in italiano ARRABBIARSI. Ecco il paradigma di questo verbo al presente. Esercizio di ascolto. Io dico la forma e tu dici cosa significa. Pronti? SERDIZZA. TI ARRABBIARSI. SERDIZZA. TI ARRABBIARSI. SERGUSS. MI ARRABBIARSI. SERDIZZA. TI ARRABBIARSI. SERDIZZA. SI ARRABBIARSI. SERDIZZA. SI ARRABBIARSI. SERDIZZA. SI ARRABBIARSI. SERDIZZA. SI ARRABBIARSI. E ora basta con questo verbo negativo. L'ultimo verbo che prendiamo da questo estratto è il verbo passare dalla frase un giovane uomo passa il tempo. Come si dice passa in questa frase? Bravo. Questo verbo appartiene a un gruppo a parte, dai verbi che solo alla prima forma singolare hanno una lettera diversa dall'infinito. Ecco perché partiamo dalla seconda forma e non dalla prima per il momento. Come dici? Tu passi il tempo. Noi passiamo? Noi passiamo? Voi passiamo? Voi provodite? Essi passano? Benissimo. Benissimo. La prima, primissima forma, io passo, sarà la lettera IA. Я провожу. Ecco appunto che la lettera D è sparita. Al suo posto pronunciamo J. Come dice io passo il tempo in ufficio? Io provo. время в офисе. Parliamo. Ti farò giusto due domande, tu prova rispondere. Я спрашиваю, а вы отвечаете. Вы хотите сейчас быть на пляже? Ti ho chiesto se vuoi essere in spiaggia adesso. Come rispondi? Da, хочу. Oppure, нет, не хочу. Ora una altra domanda. Вы можете поехать на пляж на этой неделе? La ripeto. Вы можете поехать на пляж на этой неделе? Ti ho chiesto se puoi andare alla spiaggia questa settimana. Cosa mi dici? Да, могу. Oppure, нет, не могу. Вы. Бенissimo. Отлично! Vai al prossimo video e intanto ti saluto. Ciao, пока! Субтитры сделал DimaTorzok